musica 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 mhm ok ehi ragazzi benvenuti in questo nuovo video io sono Jayri e oggi siamo tornati sulla Dave Void allora la stacchezza la bio un corpo avemmo visto che mi ha dato un'altra la non me la ricordo non mi ricordo non mi ricordo ah lander generator dobbiamo fare giusto giusto la technical ok la technical plus giusto devo completare quella transmutation la sabbia e poi la faccio giuro giuro storage open eh vabbè open questo qua si fa poi allora oggi si va in giro per la città senza morire no non è vero morirò ha 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 oddio fa power plants 54 metri a why non mi ricordo option option ok si sente siamo un po' più don 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 wow perché lag ah già avevo preso tutta la sabbia quindi facciamo così così transmutation manual detect oh scema merda ancora 42 da prendere bensì ragazzi 42 44 ragazzi e facciamo così va mi sono rotta le palle voilà e si ingresso di merda naturalmente questa ributtiamo tutto parte questi 22 dentro quindi bruciamo tutto wow buccia voilà basic sempre che palle mi oppa oppa non serve a che cazzo ok imparo che non si sa mai che cazzo serva però non si sa mai allora opp 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 tanto non possiamo nemmeno usarli quelle perchè perchè andiamo a vedere le cazzo di zucche ehm no 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 ehm cosa qua no ma di nuovo ma cosa serve sta roba vediamolo subito oh ok a bruciare bene quanto tempo bruci come un pezzo di va benissimo allora saliamo su ce l'ho ce l'ho si ce l'ho pop 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 hop cazzo ok ok adesso ricordiamoci questa qua no no ma dj allora leo e lara e venga ci siamo oh cazzo è vero avevo fatto l'inceneritore devo solamente aspettare che diventi giorno e poi posso andare l'inceneritore ah qui c'è una zucca che mi mi sono dimenticata di prenderlo oh oh qui c'è simon qui non c'è un cazzo di nessuno qua non sono ancora andato a vedere qua non lo so qua non lo so non lo so non lo so non lo so allora però devo andare all'inceneritore appena diventa giorno fra quanto diventa giorno? fra pochino aspettiamo e allora è diventato giorno andiamo all'inceneritore si qua ero scesa e ho preso quello che mi serviva adesso mo 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 aia ragno non mi vuoi attaccare? bravissimo oh bravo cucciolo no 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 merda eh quanti metri away è? quanti metri away è? 10 metri away sarei mica qui sotto? no ti prego dimmi che mi ha fatto visitare il posto oh dio mio mi spavento dio fa ragno di merda dimmi che ho trovato la cosa dell'inceneritore ti prego? si 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 ma qua quindi non c'è un cazzo di niente? vediamo subito cerca di non cadere oh bitch 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 cosa ottimo no 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 ok devo andare a trovare un reattore mmm ok devo andare a trovare un reattore mmm ok in pratica vado a trovare questa qua per dirmi come possono produrre al massimo i reattori fantastico Matt Matt è uno dei miei vecchi amici we worked at the smeltery together smeltery oh smeltery vuol dire che era dove sono andata prima Matt sta lì dentro e io devo trovarlo capito Halley is a quite an interesting girl è la rena ragazza interessante e calma i really should talk to her to learn some about her ok secondo me sto qua ci sbava dietro a questa but her house got invaders won by mobs since the time she became a person who hated mobs the most in the city and so d'ho cazzo sta non me lo dice che amore ok è stata invasa dai mob va benissimo Max I need to find how to turn the reactor back on Max should have some ideas ok devo trovare Max che sa come far andare il reattore power planter that's a big aluminum silo hmm should the re silo holds the reactor that used power the war oh oh so dov'è è quella cosa messa lì in centro ok can you use it for something posso usarlo per far qualcosa scusa jesson is a science who knows about strange materials he might know of something I can't find ok ok serve per fare le better machine cioè per fare delle macchine un po' meglio allora prendiamoci un paio di torce e poi appena diventa di nuovo door posso provare a fare una cazzata secondo voi io muoio sono quasi certamente certa ok ok shift e non mi mollare thank you caro probabilmente c'è qualcuno in questa casa 57 di fuel BAM che male di off-faust ok c'è qualcuno? Lucy? 60 c'è un cazzo di gente qua insomma no no cazzo troppo non scendo tanto cari non scendo non scassate la minchia non scendo ah quindi qua non c'è non mi sa che devo mescolare ancora più là ahhh ma basta là ma basta ok 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 merda no 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 dove c'è me lo sotto aspetta che pigio è uno degli scheletri più stupidi che io abbia mai visto in vita mia ok avete finito avete finito tutti ottimo dai che è diventato giorno ok 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 già non possono spawnare io mi son fatta male comunque ma vabbè ma vabbè sono dettagli questi voilà 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 allora qui ci sarà sicuramente Lucy luci di me goglioni dio santo luci stai oh madonna no cosa ho fatto spawnare pianta 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 torce pianta torce no no merda che sei io qui sotto come il nether quartz il nether quartz il nether quartz yes yes sono felice ragazzi il nether quartz è roba tutta buona e non fa schifo mai nessuno dai dai no io non ti ho guardato oh no 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 madonna santa che cosa è combinato che cosa è combinato che cosa è combinato che cosa è combinato ho fatto un casino però no non ho messo waypoint vabbè allora ho trovato ciò che un po' mi interessa ok ok per fare il grinder facciamo il grinder poi il grinder e poi il soffo ma come si fa con tre di quarzo quarzo non cazzo si è ben chiaro quarzo uno due ecco voilà pietra tre tre da far cuocere non sono capace a vedere niente perché mi mettono quei cosi colorati a me sta troppo sul culo quando mi mettono quei cosi colorati ok 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 bene bene mi sta sul culo cosa dovevo fare che non mi ricordo eccolo un altro ne devo fare andale via 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 il charger che no madonna cosa stavo per fare il charger ed ok fantastico certo quasi dust adesso è molto semplice ve lo spiego velocemente ficchiamo qui benissimo io ci devo mettere questa qui sopra questa qui sopra adesso metto qua giro 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 non mi ricordo se ogni volta mi si rompe il vostro uncino e devo rifarmelo no visto 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 è fantastico è un po' migliore c'è anche con l'automatico però costa un fottio di 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 ritorse e io non lo voglio ho la finito yeee 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 certu what certus quarts seed o non con una di sei con quanto me ne chiede 20 una di sei ah eh io la sand me ne ero tenute un po' vai via ehm un po' di sand eccoli sand questo me ne do 20 esattamente quante ne vuole lui nooo io sto benissimo ragazzi se questo video vi è piaciuto lasciate un bel like commentate condividete e soprattutto iscrivetevi e noi ci rivediamo al prossimo video di questa fattuta dei voidi di merda ciao